Giulia è il tuo tuo aiuto L'aria non so che chi lo fa Andrò non ti credi C'è lui con l'aereo, volevo ruprire l'aereo L'ho peccata lui, è morto in giro Cazzo di fuori C'è vero, non ti credere Eh, che ha detto che non ci credo Non lo so E allora, proprio Non so cosa ho sentito Ma davvero Viva dalla casa rotta ragazzi Guys Giorgio, dove andiamo? Giorgio Giorgio Vabbè, ne vado sotto Io qui a francovole, ma c'è un tizio Giorgio 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 Sto arrivando A terra Copritemi ragazzi Giorgio 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 P.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.S. aspetta vieni qua lino 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 95 dove ragazzi questo serio bravo giochi gli altri due e io so fatto un tizio io 5 tizio mi son fatto mi hai già regalato un dedikit hai visto quante poche chilo ho? me la puoi lasciare che è al mio primo palco il colpo? no non c'è un colpo dove è morto l'altro? eh guarda che si è già sottotutto giuro mi vuoi che aspira forse, madonna me lo son fatto io ho handicappato guarda quanti chilo ho ho handicappato vedi mi c'ho fatto una cintura atterrata con l'altro ma che c'è vicino? mi sono fatto due tizi io mi dai un colpo ma che colpo pompa cariola vai dai un colpo pompa ma che è quando il colpo pompa me ne ho due e poi chi è quando il colpo pompa ci sono due ma che è quando il colpo pompa ci sono due ma chi è il rabo natale che regala tutto? eh dai oh dai dai te te che ritardato madora c'è il pesce qua che ritardato vieni 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 non dobbiamo all'hamburger gianna ma quante kill hai? una? si io non ho due channel ma sei zero troppo vieni va a prendere veloce ci hanno avuto capire la scritta non l'aereo aspetta arrivato non volare, non fa niente ci vediamo al rizzo zio no, facciamo la safe e dopo beh ce ne più di uno hai visto power qua? oh zii, ragazzi, ma nico puoi venire, please si, lo riparo e con tutte cose tipo una e veniva di là, l'idea di quattro stiamo arrivando con l'aereo sul quarto medico oh, ma non sparano i coglioni mico sta roba qua si attacca da solo, si attacca si è staccato da solo e sono caduto hai i cure? hai cure mico? cazzo e basta, potere, madò, che casino lori, aspetta a prendere questo posto ma va, fanculo, non li do più lori, ma aspetti e se vieni vieni tutte frega delle casse vende, vende vende ma così vuoi vende? vado, oh, guarda che mafioso vende, vende le ho prese ah, vabbè, allora stai ma queste, queste municili sono infinite? nooo Ciao Sì 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 Che bel pompeta col che vado Vai vieni in nico Ah no Ok Mi fanno tutto perché abbiamo presa il teo E dai muovi però Vai E' vero il nemico è il teo Di una carta Che pazia che ha traereo Vai muovi nico scendi NICO L'Esciende Non so Si me l'ha fregato E dai di un bar è la madonna ragazzi mi hanno purizzato ragazzi l'ho purizzato un po' in aereo vieni qua nico vieni qua veloce veloce ho vinto con i miei no no aspetta posso guidare io e metti e metti a lei voi tra i miei sicuro io dall'alto ciao greccio eh infatti se vuoi venire anzi mi prendo il mio di prima e arrivo sto arrivando sto arrivando regà ragazzi ma cos'è sta partita oh ma chi che spara oh no pure è kaç più non velo niente oh ma ora non velo niente ragazzi non velo niente davant il Reto è un po' in aereo mi like un bot l'aereo un nemico è c st st 7 kg ragazzi oh my god, da quando? no, e mazza non ce l'ho acciolato, gli ho levato tutta la vita io oh, non posso farti niente l'ho pure in te a combo raga avete colpi assalto? raga spassa il leggendario eh no, a me servono colpi assalto raga venite, raga venite hai colpi assalto? hai colpi assalto? no, io no io non ho 79 raga venite sull'aereo veloci, raga arrivo io, giusto arrivo ma le vende lo spasoro? raga io sono il vostro guidatore guido io raga stiamo all'altro però lo spasoro la siamo tutti dai muoviti john e lì ci sono le vende lo spasoro no, non fai le prendi muoviamoci prima che ci faccia ok, quello io si, si, si si vai raga stiamo in tutti un po' più forte e ci voli mio punto andiamo dai john ci sei? dai andiamo andiamo tanto gli stanno andando solo andiamo gli sta pure spiancando leno lì di fronte leno dove guidi? come guidi? come guidi? è bellissimo oh ma è giustato raga che regala e si sta rompendo ma dai scusa ti stai scendiamo e vogliamo con un togno dove c'è giusto oh veicuno non sai neanche come ho fatto eh mi hanno distrutto il mio beh il nostro ha Regà da me No no io me ne sono scappato con la giampa ragazzi Venti qua sopra la montagna Venti uno Venti uno Ventato uno venti Venti un altro Mi date i colpi assalto ragazzi No 48 please Eh fatto bene 23 quanti cazzo ne hai pochissimi Mi hai chiesti cosa vuoi fare Ti lasciamo secco Sì ma lei non c'è pieno Non vuole dargli con il fan È sempre pieno lui Sì anch'io Come no Si manda lo screen? Sì c'è no 48 Ah è guai Regà era one Vabbè era one Ragazzi c'è ne è uno sopra la montagna Io ce l'ho io ce l'ho Regà chi è che viene a pushare assieme a me Vienite Sì c'è 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 C'è Sì c'è Sì c'è Raga quà c'è gente, qua giù E siamo ancora in 10 regali ragazzo tizio regali tra guante lo cosa mi dai colpi medi ne ho quattro di veloce ne ho quattro no sbagliato non quattro vado regazzo punto puccio io non ci abbiamo vita era che mi metto qui con la torretta vedete mi giro io ho fatto quattro assist ragazzi ho fatto quattro assist tredici kg no che tre si tredici madorra ma mi giro mi giro mi giro mi giro Grazie.